Ciao ragazzacci, io sono il metacero25 e oggi siamo qui su Naval Action Allora, questa interfaccia principale che voi avete appena entrate dentro al gioco è un po' difficile da capire e va bene Possiamo craftarci delle cose, possiamo prendere delle nuove barche, abbiamo tante cose, possiamo prendere dei upgrade Ma al momento io come vedete ho zero di gold, ho fatto un giro così, andando in giro con la barca, ma non ho fatto un granché Prendiamo una prima missione Allora, noi possiamo prendere tre tipi di missione, war, quindi di guerra, ma questo port non può, gay, non ha niente Quindi non ci sono missioni di guerra, delivery order e combat order Allora, io farei un delivery order perché ho visto che è 25 medium carriage, ma io non ho soldi quindi non posso comprare niente Perché in questo gioco la parte di trasporto è molto importante Allora facciamo un combat order, select difficult, io farei quello più leggero proprio Country, io sono vicino Abaco, scusami, non ce n'è uno vicino Abaco? Quindi devo cercare near Abaco, sono vicino Abaco Il bello di questo gioco è che voi non sapete, non avete un GPS che dice sei qui, quindi va bene Dovete capirlo un po' da solo, come si fa a capirlo? Non è semplicissimo, ma si può fare Io ancora ci ho giocato pochissimo, è la prima guerra che faccio e volevo farla insieme a voi, non volevo mettermi a farmela da solo Fammi vedere la mappa, noi siamo... non lo so dove siamo noi Noi siamo più o meno qui a Turtle Cay, Turtle Cay e Grand Bahama, Abaco è un po' più lontano Allora prendiamo la Grand Bahama, scusa, enter Turtle Cay, scusami, tanto per dire Dobbiamo fare questa prima missione, una missione di combattimento I tasti non sono semplicissimi, però ce la possiamo fare Missioni di combattimento, Grand Bahama, ho detto Grand Banana forse, non lo so però Quindi facciamo così, 5.000 di gold e 50 esperienze Prendiamo questa cosa, ok Search and Destroy Near Water Bay Va bene, va bene, quindi dobbiamo fare questa prima missione Facciamo 6, io spero di fare tutte le cose fatte bene Il gioco è un po' difficilotto, penso che sia anche un gioco abbastanza di nicchia Allora, Search and Destroy Near... dov'è che mi aveva detto Near? Water... 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 Water Bay Qua devo andare, quindi noi siamo di qua Dobbiamo andare verso sud-ovest Come detto voi qua non avete nessun punto di riferimento Cioè non... dovete guardare questo Quindi dobbiamo andare da quella parte I tasti, i tasti sono veramente difficili Si comanda tutto quanto in questo modo Per sparare si usa lo spazio Per dare il primo colpo Date un colpo di avvertimento Cioè fate il primo colpo e vedete se siete mirati bene Per mirare invece usate il mouse Poi se volete sparare tutti i colpi in un colpo Usate il mouse Però vi consiglio sempre di usare lo spazio Lo dicono quasi tutti di usare sempre lo spazio Non lo so, non lo so Usiamo sempre lo spazio e va bene Ho ripassato così i... come si chiamano? Ho ripassato tutti i tasti Possiamo ritornare e andiamo verso questo... Mettiamo in full Come vedete ho messo full Full vuol dire ok, vento, andiamo Questa è la barca che ti danno all'inizio La barchetta... No, non fortissima eh Quindi ve lo dico già io Non è proprio fortissima Però... non è male Dobbiamo cercare... non lo vedo ancora Quindi dobbiamo... dobbiamo navigare in questo... In questi mari che non sono proprio semplicissimi La barca non è delle migliori Quindi noi stiamo andando verso sud-ovest Dobbiamo girare e poi andare qui Vedete qua ci sono le cosi che dobbiamo andare noi Quindi dobbiamo attraversare tutto il mare Io questa prima puntata proverei a non tagliarvi niente A farvi vedere Qui si naviga tanto, si naviga Non ho capito cosa serve questo squalo Se qualcuno lo sa questo squalo, questo prey Fatemi sapere Io sono abbastanza... La seconda volta che avvio il gioco La prima volta l'ho inviato Ho fatto solo un viaggio da una parte all'altra Così tanto per capire un po' come funzionava il gioco Non navigate mai contro vento Cioè altrimenti la barca si ferma E in più utilizzate tantissimo la mappa Se volete avete anche un binocolo qui Ma al momento il binocolo non sappiamo che farcene Vedi in questo modo rischiamo di andare molto molto piano Forse era meglio fare il giro dall'altra parte Una cosa che potremmo fare è andare a zig zag Come fanno tutte le barche a vela Che vanno contro... Non vanno mai contro vento Vanno a zig zag Così sfruttano la massima potenza del vento Quindi vai di qua Gira tutta dall'altra parte Dobbiamo andare a zig zag Perché le barche a vento non hanno il motore dietro Che le spinge Quindi per andare da una parte tu devi girare tantissimo Vuoi andare a ovest Tu vai nord ovest e sud ovest Nord ovest e sud ovest Purtroppo dobbiamo uscire da questo isolotto E poi andare verso sempre sud ovest L'importante è andare verso sud ovest Questo isolotto Allora vi faccio vedere Io mi sto orientando con la mappa Questo isolotto qui Poi arrivati qua sempre sud ovest Dovremmo arrivare verso water bay Quindi verso water bay c'è questa cosa Purtroppo a fare zig zag mi rompo un po' le scatole Quindi andrò dritto anche se vado un po' più lento Come vedete qua c'è scritto shallow sulla destra Sulla sinistra In pratica vi segnala le secche Non doveste mai andare sulle secche Ma uno volendo può anche andare Tanto la barca iniziale ve la danno sempre Ve la ridanno Anche se la distruggete non succede niente È gratis Le altre barche invece che potete prendere E che dovete comprare con i soldi Che fate nelle varie missioni Quelle invece le perdete Casomai se qualcuno vi uccide Avete perso la barca Ed è un peccato Dovete stare attenti quindi vi consiglio sempre di Iniziare a padroneggiare bene questa E che non è semplicissimo Come vedete io qua Sto girando verso sud ovest Quindi devo andare da quella parte Purtroppo il vento non è per niente a favore Mi dice che qua c'è una secca Vabbè comunque non ti preoccupare Siamo abbastanza distanti Cerchiamo di andare sempre da quella parte Anche se andare da quella parte non è semplicissimo Una cosa che mi piace di questo gioco è il binocolo Guardate qui Il binocolo sporco d'acqua Con quei riflessi di acqua Come se ci fossero delle gocce È veramente fantastico Il mare poi è bellissimo Quindi lo apprezzo tantissimo Quindi cerchiamo di Trovare questa zona di battaglia E iniziamo a battagliare Cioè voglio rompere un po' di Qualcuno Anche perché è la prima battaglia che faccio Quindi potrei anche perdere Non vi assicuro niente Allora lì c'è una costruzione Vedete che c'è una costruzione lì sopra Non so veramente cosa sia quella cosa lì Boh Io comunque da queste parti Dovrei trovare il mio simbolo Per iniziare la battaglia Ok Attenzione alle secche Attenzione alle secche Ma comunque non dovrei Riusci A incastrarmi qua Ho fatto il giro di qua per prendere un po' più di velocità Adesso giro da quell'altra parte Vediamo se riusciamo a trovare sto coso Allora lì vedo un porto Andiamo a vedere che è quel porto lì Importante andarlo a vedere Purtroppo ogni volta che cambio direzione La barca rallenta tantissimo Forse ho cambiato anche troppo presto Dovevo arrivare più in là Se ho fatto bene i miei calcoli Quello dovrebbe essere Water Bay Finchè non ci arriviamo Non saprei neanche se è veramente quello Quindi dobbiamo andare lì E vedere che succede Allora questo è Water Bay Quindi siamo qui Io da Water Bay Devo andare verso Mangrove Cay Quindi verso nord Adesso mi metto qui proprio E poi mi giro completamente Perché dovrebbe essere Proprio davanti al porto di Water Bay Dovrebbe esserci La nostra missione Ok infatti la mia missione l'ho trovata Vedete là dove ci sono quelle spadine Quella è la missione che dobbiamo andare a fare Col vento di poppa poi Si va abbastanza anche belli forti Ok sono arrivato qui Cerchiamo e distruggiamo Enter Quindi prepariamoci al combattimento Sarà un po' difficile È la prima volta che faccio un combattimento Non avevo capito che dovevo aspettare quella cosa lì Ok sono due però loro Scusatemi Chi devo uccidere? Non ho mica capito Ah devo uccidere quelle Siamo in tre siamo? Non ho capito niente Non ho capito di questo gioco Questo gioco non fa per me Non fa Vai in full va? Andiamo? Andiamo? Riusciamo ad andare avanti? 0-2 0-1 Ok partiamo Ok È un'ora e mezza di battaglia È un po' difficile fare un'ora e mezza di battaglia eh Quindi andiamo qua Noi siamo tre E loro sono Ok così si mira Ok perfetto Perfetto Ripara Sailing Gunner Sì tutti su Gunner No no andava bene andava bene Quindi andiamo a vedere lì Prendiamoci la Dominic Bonlis e l'Octavius Nash È un po' difficile Ok meno male che non sono da solo Quindi lì in alto c'è C'è la mia barca in alto a sinistra Devo stare attento a non distruggerla Quindi io muoio Giro di qua Giro di qua Gira tutto Metti the up slow Aspetta Fammi mirare Com'è che si mirava? Spara? Non mi fa sparare? Ok così ce la facciamo Va bene va bene Scusi lei Non si metta davanti Sei pazzo sei È pazzo proprio quello Non so ancora mirare Non ho capito bene come si mira Però Devo farcela Loro mi stanno fregando la La barca Ok io la Dominic ce l'ho in vista Io quasi quasi sparerei Vediamo se va a colpo Eh no Devo stare attento Perché ci sono le onde in questo gioco Eh cavolo Ho sbagliato Ho sbagliato Ho premuto il pulsante sbagliato Ricaricate al più presto Gentilmente Ok Mito 125 Ha affondato la Dominic Bonilla Buono 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 Devo affondare anche l'altra adesso Solo che l'altra mi ha fregato Per guardare quella Più basso Per guardare quella Mi sono fatto fregare Perché vedete là L'ho L'ho Distrutta quasi Solo che non c'ho più gente Che mi ripara la nave Questo mi farà Mi darà tanto male Mi farà Guarda che si mette davanti Mi copre la visuale Ok Mi sta coprendo la visuale La mia barca Si vede che questo qui è un bot Guarda Peraltro ci andiamo pure addosso Ci andiamo Scusi bot Mi perdoni Io mi sono anche fermato Annaggia al bot Annaggia al bot Che si è messo davanti Come un pirla Si è messo davanti Ok un colpettino Più in alto Più in alto E più davanti Qui Vediamo un po' che succede Troppo in là Ah perché sto girando Vero? Sto girato troppo Adesso Niente Ho sprecato un sacco di palline Allora se faccio un buon tiro Questo potrebbe essere L'ultimo tiro Che hanno L'ultimo L'ultimo colpo Quindi vediamo un po' Di mirare subito Ok sono qui Buttiamogli un colpo Buttiamoli tutti va Eh ci voleva più in alto No però l'ho preso Però l'ho preso Non è andato malissimo Quindi cerchiamo di stargli vicino Perché devo assolutamente Buttarla giù Perché È 50 minuti Che sono qui Per questa battaglia Ok È affondata anche questa nave Quindi posso Battaglia è finita Premo esc Leave battle Vediamo chi mi dice Sì voglio lasciare la battle C'è scritto là Leave battle Dovrebbe fare tutto completo Quindi Mi è nato 5000 gold E 50 punti esperienza Buono 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 Quindi la mia La mia nave Com'è in questo momento Non è proprio fantastica Però mi sa che io C'ho Exit To friend report Ok Usciamo a un porto Che sia amico Vediamo un po' Di riparare la nostra barchetta Ripariamo la barchetta Però ci fermiamo Non so dove sono Però Sì Però dovrei essere a posto Quindi Finisciamo questa puntata Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Sempre qui Su Naval Action Fatemi sapere qualcosa Nei commenti Se il video vi è piaciuto Lasciate un pollice in su Se il video vi è anche piaciuto Quindi se due volte Ho detto il video vi è piaciuto Scrivetevi al canale Se ancora siete iscritti Condividete il video se potete Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao 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 Grazie a tutti.